Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi parleremo di Liu Wenzhe, capostipite della scuola scacchistica cinese. Wenzhe è stato il primo maestro internazionale cinese ed il primo tra i cinesi a vincere una partita contro un grande maestro, che era Nicolai Crocius del 1965, ma non si è fermato lì, ha continuato a migliorare ed ha avuto un rating massimo di 2473 punti ed o pensate a 60 anni, quindi pensate che giocatore sempre in crescita. Nel 1978 alle Olimpiadi di Buenos Aires ha giocato la sua partita immortale, un'incredibile miniatura con uno scacco matto brutale ed elegante. L'ha giocato contro il grande maestro olandese Donner, che era anche un tipo dal carattere piuttosto acceso e quindi chissà lo stato psicofisico di Donner a fine partita. Questa partita verrà ricordata come l'immortale cinese. Dieci anni dopo, nel 1986, Wenzhe viene nominato primo allenatore della Federazione Cinese degli Scacchi, morirà purtroppo a 70 anni nel 2011 a Beijing in Cina. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Giulio per il graditissimo Super Tank, e poi lasciatemi introdurre e ringraziare il nostro sponsor Ludic, grande azienda italiana che produce giochi di qualità non solo divertenti ma anche utili per tenere sempre la mente allenata. E il gioco che vi presento oggi è Smimando, che si gioca da 3 o 4 giocatori. Sei capace di mimare e far indovinare una serie di oggetti in situazioni imprevedibili? Un party game che vi farà davvero divertire. E io, come al solito, vi lascio tutti i link in descrizione e nel primo commento sotto al video. Adesso non dimenticate di like e partiamo subito. Wenzé di bianco apre la partita con E4, Donner gioca D6, la difesa Pierce, D4 per occupare il centro, arriva a cavallo in F6. Allora il pedone si difende sviluppando il cavallo in C3, il nero da Pierce proprio apre il fianchetto G6, arriva la calma, alfiere in E2. Alfiere in G7, completa il fianchetto, ma adesso il cinese sfrutta la sua batteria Donner-Alfiere per spingere subito in G4. Allora il nero gioca H6, un'altra mossa calma H3. C5 attacca il centro, attenzione, anche all'attacco di scoperta dell'alfiere. E allora il bianco avanza in D5. Arrocco corto, ma forse si poteva aspettare, perché adesso il bianco ha certamente la posizione del re nero. Quindi ha un bersaglio, certo. E allora arriva G4, sta per arrivare G5, E6, la risposta al centro, G5, H per G5. Purtroppo si è già aperta, purtroppo per il nero si è già aperta la colonna H. Allora cavallo sotto attacco si porta in E8, donna in D3, guardate che cosa vuol fare WNZE. Donna in H3, minaccia di matto in H7. E allora dopo E per D5, la casa H3 adesso è protetta, e quindi il bianco non potrà andare con la donna in H3. Intanto il cavallo ricattura al centro, cavallo in C6. Ma la donna sulla colonna H ci vuole andare lo stesso? Donna in G3 e vuole arrivare sulla colonna da H4. E allora il nero deve creare una via di fuga per il re. Qui bisogna subito spingere in F6 o anche in F5. Alfiere in E6, donna in H4, minaccia scacco matto in 1, arriva adesso F5. La via di fuga sembra esserci, ma in realtà è già troppo tardi. Pensate, c'è il matto forzato in 8. E allora WNZE gioca donna in H7 con scacco, il re scappa in F7 e noi siamo arrivati al nostro quizzone. Qual è secondo voi la continuazione vincente? E allora mettete pure in pausa e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, perché qui c'è un sacrificio di donna micidiale e guardate come continua il cinese. Non donna per alfiere. Donna per pedone in G6 con scacco. Un incredibile sacrificio di donna che va accettato sicuramente, perché se il re si sposta in G8, donna in H7 con scacco, re in F7 ci sono addirittura due mosse che danno matto. Alfiere in H5 matto, ma anche G6 scacco matto. E allora, dopo che la donna ha catturato il pedone in G6 con scacco, il re è costretto a ricatturare in G6. Alfiere in H5 con scacco arriva adesso. Re in H7, mossa unica. Alfiere in F7 con scacco. E allora bisogna giocare alfiere in H6. G6, altra mossa precisissima. G6 scacco. Re in G7. Alfiere per alfiere in H6 con scacco. Re in H8. Anzi, scusate, alfiere con scacco. Donner, sbagliando, abbandona due mosse dal matto, perché un matto del genere bisogna farselo dare. Diamolo noi. Re in H8 va giocata per forza. Alfiere per torre, scacco di torre di scoperta. Sembra già matto, ma in realtà c'è un'ultima mossa. Donna in H4 fa muro, ma torre per donna, scacco matto. Veramente un'ammazzata. E per questo questa partita è conosciuta come l'immortale cinese. Uno scacco matto forzato in otto. Veramente elegante e brutale. Mi piace sempre proporvi queste belle partite, ma anche farvi conoscere un po' questi personaggi che hanno fatto la storia degli scacchi. Dietro a molti loro ci sono storie stupende, quindi spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, aiutatemi a farlo crescere. Iscrivetevi subito. Oltretutto possiamo guardare insieme tutte le migliori partite. Se avete visto il video di ieri, mi raccomando, e siete già iscritti, cliccate sulla campanella, così che l'algoritmo vi possa avvertire tutte le volte che c'è un nuovo contenuto. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!